La polizia di Enna sta provando a identificare i giovanissimi che martedì pomeriggio sono saliti sul tetto spiovente di un palazzo di quattro piani. Una scena che non è passata inosservata ai vicini dei palazzi di fronte che hanno assistito inermi e preoccupati ai balzi di questi ragazzi che si rincorrevano sul tetto e montavano l'uno sulle spalle dell'alto in equilibrio precario. Decine le telefonate al centralino della polizia ma quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto i ragazzi si erano già dileguati. Adesso gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sull'episodio, hanno sentito alcuni testimoni per cercare di identificare i giovani che erano sul tetto. Si è praticamente sfiorata la tragedia perché i giochi che i ragazzi facevano sul tetto erano veramente pericolosi ed hanno preoccupato le famiglie che si sono affacciate ai balconi vedendo quello che stava accadendo. Sviluppi dunque potrebbero esserci prossimamente.